Antonella Clerici, quale sarà il suo futuro in tv? E come prosegue la storia d'amore con il compagno Vittorio Garrone? Ecco le dichiarazioni in un'intervista al settimanale Oggi. Da tempo la Clerici dice di voler dedicare meno tempo al lavoro. Ora esplicita meglio in che modo, ho una mia idea, dedicarmi al prime time e a qualche seconda serata, recuperando il mio mestiere di giornalista e tralasciando la quotidianità della prova del cuoco. Questo è il mio progetto con la RAI, bisogna poi vedere se la RAI vorrà avere un progetto con me. Ma ho tantissime offerte, aggiunge, con il mio agente Lucio Presta valuteremo tutto. Certo, io sto alla RAI come Totti alla Roma. Fedele nei secoli. Se l'azienda dovesse avere programmi diversi, si cercherà un compromesso. E se non sarà possibile, prenderemo in considerazione altre proposte e altre reti. Quindi Mediaset, la 7 e Sky, se vorranno, potranno farsi avanti. Anche se resta in piedi il progetto di fare i migliori anni con Fabrizio Frizzi e Carlo Conti, ma non vogliamo che Fabrizio si stanchi troppo, l'eredità è già faticosa. Certo, nella prossima stagione sarebbe bello, un modo di divertirci e far sorridere. La svolta in tv è legata alla vita privata. La Clerici vuole avvicinarsi a Milano, lì nei paraggi vivono anche mio padre e mia sorella. Forse già da settembre oppure rimanderemo ancora un po'. Secondo me tutto si deciderà entro giugno, con la scadenza del mio contratto. Garrone ha il suo allevamento di cavalli in provincia di Alessandra e lì fa la vita a Greste che gli piace. Potrebbe essere quella la destinazione? Potrebbe essere, sì. Per ora continuano a vedersi soprattutto nei weekend, visto che lui si muove tra Milano, Genova e il Piemonte e lei sta a Roma. Ma, alla nostra età, non ha senso stare così lontani.